Salve amici, siamo di nuovo qui con Giorgio Bongiovanni, una ennesima intervista su temi attuali, sulle cose, le opere e le missioni che Giorgio porta avanti, tematiche spirituali, tematiche cosmiche legate agli esseri dello spazio, quindi una ennesima ventata di verità e di bellezza in un mondo che purtroppo per i fatti che accadono è sempre più tetro, ma noi abbiamo fiducia, abbiamo fiducia soprattutto in nostro Signore Gesù Cristo che libererà il mondo dal male. Oggi affronteremo in particolare un'importante missione da cui Giorgio è appena rientrato in Sud America, quindi Giorgio grazie. Prego, grazie a te. Grazie davvero di essere qui con noi e di affrontare nuovamente tematiche che purtroppo nella maggioranza delle persone sono considerate futili, poco serie e invece noi sappiamo bene che sono il cuore pulsante di quella verità che libererà, come dicevo, il mondo dal male. Allora tu hai fatto, sei appena rientrato dal Sud America, dove hai fatto delle cose importanti, io ti ho seguito e vorrei un po' ripercorrere le tappe di questo tuo viaggio. La prima cosa che salta agli occhi, anche perché io e te ci conosciamo da tanti tanti anni, più di trenta, e sappiamo bene che in Occidente il tuo messaggio, le stimmate, eccetera, sono spesso mal tollerati dai media, dalle autorità, invece in Sud America tira un'aria diversa. Come sei stato accolto? Grazie a te, Pier, e a tutti gli amici a casa e al pubblico numerosissimo presente qui insieme a te, sempre seguitissimo. Come sempre, l'Uruguay è quasi casa mia, come l'Argentina, ma anche il Paraguay, il Cile, il Messico. Hanno pubblicato giornali, il giornale della domenica ha fatto una pagina intera. Nel Paese. Il Paese, sì, il giornale più letto, poi siamo stati alla radio nazionale, alla televisione. È normale questo che succede lì perché non hanno difficoltà a unire il messaggio spirituale con il lavoro che faccio, quello dell'attivismo sociale, faccio il giornalista. Cioè per loro è un naturale che uno come me, che dice di avere le stimmate, si occupa di politica, di ambientalismo, di no alla guerra. Per loro, anzi è logico. Poi la mia passione per gli UFO non è una passione, riguarda esperienze che ho avuto. Prima di me le ha avute Eugenio e altri. Lo stesso mio fratello che è passato a miglior vita. Quindi per loro è una sensibilità spirituale molto più avanzata della nostra. Hanno una situazione economica, di sviluppo, diciamo economico-sociale. Più che sociale, diciamo economico, vengono definiti i Paesi del Terzo Mondo, no? E forse sarà così, ma dal punto di vista della cultura, della letteratura, della filosofia, della metafisica, della spiritualità, sono molto più avanti di noi. Nella politica sono tutti uguali, italiani, uruguai, tutti corrotti, mafiosi. Lì, come maestro, tu che sei scienziato, ma com'è che tutti i politici del mondo, Paesi poveri, ricchi, sono tutti uguali? E c'è una selezione, Giorgio, se non ti corrompi, per fare il politico devi essere uno che si corrompe, se no non fai il politico, perché la persona onesta in politica viene espulsa, è come un batterio. Infatti qui i mafiosi, i personaggi di Stato assolti dopo che hanno commesso il fatto, vengono eletti senatori, vengono ministri, gli Stati Uniti li mettono in galera, con tutto che noi critichiamo gli Stati Uniti, però su questo almeno hanno la faccia all'interno di non mettere i corrotti nel potere. O almeno quando è sfacciatamente vero, qui invece più sei sfacciato, più sei corrotto, più sei eletto. Questo l'abbiamo visto anche su altri aspetti, perché adesso Trump è stato, che vuole candidarsi di nuovo alla presidenza, è stato sbeffeggiato e accusato perché ha pagato una porno star, in Italia l'avrebbero fatto santo. Subito, esatto. Perché è il signor Silvio che ha fatto... Io vorrei andarmene, parlando del Sud America, da questo paese, ho chiesto al cielo di non andarmene da voi, però non mi è arrivata la risposta e se non risponde si vede che devo stare qua. Però la lotta è a Gerusalemme? La lotta è a Gerusalemme, però c'è anche il detto, se una città non vi accoglie, e scrollate la polvere dai calzari, andatevene, dipende dai punti di vista. Ma io ho visto nel Vangelo, c'è una postilla tipo contratto di paperone e paperone, tranne che da Gerusalemme. Ecco, mamma mia. Comunque Giorgio, io ho viaggiato in questi luoghi assieme a te, effettivamente è stata una grande sorpresa, bellissima, vedere questa grande apertura spirituale, mentale, culturale, verso tematiche che qui sono rigettate o ritenute poco serie. Invece persino il fatto degli UFO legato alla politica, legato anche all'aspetto della legalità, non ha scandalizzato questi grandi giornalisti, perché tu sei stato comunque intervistato dal Paese, che è un giornale nazionale, non so se sia il più venduto, ma... Sì, sì, il più venduto, è il Corriere della Sera dell'Uruguai. Sei stato intervistato a Radio Sarandì, che è una grande, importantissima radio nazionale, sei andato nelle televisioni, quindi voglio dire, c'è un'apertura, una sensibilità e una tolleranza che qui è impossibile. Perché qui siamo ignoranti, forse saremo ricchi, abbiamo le comodità, ma siamo degli ignorantoni su tutti gli aspetti, anche del nostro Paese. Noi siamo ignoranti sugli UFO, sugli apparizioni, sui miracoli. Noi andiamo in chiesa per dare un morso al corpo di Cristo, ma non sappiamo quello che stiamo facendo. Noi vogliamo solo il business, i soldi. Per questo innalziamo personaggi come Berlusconi, perché sono il nostro specchio. Eppure comunque, Giorgio, secondo me, anche lì i giornalisti, non è che i soldi gli fanno schifo, però hanno questa apertura. No, i soldi non gli fanno schifo a nessuno, se è per questo, però abbinano la professione remunerata, anche bene, con la serietà. Cioè io non posso smentire dei fatti o delle esperienze per soldi. Io racconto dei fatti che reputo veri, faccio delle indagini e voglio essere pagato, dicono loro. Benissimo. Però quando tu vieni pagato per smentire, questa è... Certo, prostituzione, culturale. Prostituzione, corruzione. Quello che fanno i nostri giornalisti, tutti i grandi giornali, tranne il Fatto Quotidiano o qualche altro giornale, come il nostro, mi vanto di dirlo, di Antimafia 2000, il resto sono tutti al servizio del potere. I giornalisti vengono pagati per dire quello che vogliono gli editori. Cioè menzogne o manipolazione. Menzogne o manipolazione. Tranne qualche eccezione di qualche grande direttore che se ne frega dell'editore, però fino a un certo punto vedi quello che hanno fatto a Giletti e da lì capisci che significa fare televisione in Italia. Nonostante i grandi numeri che Giletti faceva, defenestrato... Sì, poi hanno cercato la scusa della pubblicità, ma in realtà io credo di sapere come sono andati i fatti. Quindi oggi, Giorgio, nei paesi cosiddetti del terzo mondo, la serietà professionale è maggiore dei paesi che credono di essere all'apice della civiltà, come gli occidentali. Sì, nei paesi del terzo mondo, però ci sono ovviamente i padroni delle televisioni che comunque premono affinché certe cose non bisogna dirle, però devono negoziare con i giornalisti che invece vogliono divulgare certe verità. Poi, ripeto, per loro, gli UFO... Noi siamo nel Medioevo, Pier Giorgio. Noi siamo nel Medioevo. Noi in Italia. Noi in Italia, Occidente, Spagna, Inghilterra, Germania. Siamo nel Medioevo perché noi... il potere che c'è da noi ha voluto occultare, mettere sotto, sotto, sotto la sabbia questi argomenti, perché questi argomenti ti fanno pensare, ti fanno riflettere, ti fanno ragionare e qui ragionare, riflettere, pensare è pericoloso per il sistema che c'è. Certo. Non puoi ragionare. Se ragioni vedi che c'è una catastrofe, vedi che siamo un sistema medievale, vedi che siamo solo... Guarda, quando sento delle... Io faccio questo lavoro, lo sai, cronaca giudiziaria, che non è solo... Mi piace leggere anche per capire come vanno certe indagini e certe istruttorie. Cioè io leggo dei casi di grandi imprenditori o comunque non conosciuti ma benestanti che si drogano con una ragazza, la drogano, poi la picchiano. Cioè questo è il modello. Ma non sto parlando di grandi potenti, sto parlando di gente che a Milano la sera fa i cocktail a son di cocaina, sesso. Questa è la nostra società. Non sono casi sporadici. Uno stile di vita. Ricordati che in Parlamento e al Senato si sono rifiutati di fare la prova... Il test del capello. Il test del capello sulla cocaina. Tutti. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che questa società è drogata, ma non di cocaina soltanto, è drogata di tutto. Oppure, questo per quanto riguarda diciamo le persone che secondo me hanno un cammino sbagliato, ma anche le persone per bene sono drogate dal nulla o dalla falsa informazione o hanno paura che le cose possono cambiare perché stanno bene. Se uno sta bene e guarda solo il proprio orticello e stai vedendo un uragano e c'è qualcuno che ti dice senti, mettiti, cioè chiudi casa, l'uragano ti distrugge la casa, trovati un nascondiglio e salvati la vita. Ecco, per le persone che stanno nella sofferenza è una salvezza. Certo. Per le persone che stanno nella comodità quando vedono che c'è una giornata di sole, ma tu sei pazzo, Piero, ma fatela arrestare, questo ci disturba. Perché? Perché stai minacciando il loro tenore di vita, perché del prossimo non gliene frega niente. Io lo dico, non è la prima volta che te lo dico, per me uno che non fa niente non merita una società migliore. Faccio una riflessione in merito a sto discorso del benessere, della droga. Adesso io ti conosco, conosco la tua vita intimamente, conosco la tua persona e tu sei una persona nel senso fisico del termine sofferente. Hai le stimmate sanguini, le stimmate comunque sono una grossa limitazione al godimento materiale. Ovviamente ho anche tante altre cose, ma non c'entrano niente col misticismo, dico di acciacchi. Sì, sì. Lo dico perché lo sanno tutti, sei diabetico. Sì, sì. Però tu non ti droghi. No. E quindi... Mai fumato uno spinello nemmeno in gioventù. Bravo. Grazie. Mi hai battuto. Beh, tutti hanno fumato uno spinello, io no. Però il discorso, tornando alle cose più serie, Giorgio, che volevo fare, non è che questo vuoto, cioè scusa, che il fatto che persone che stanno bene fisicamente, che hanno soldi, e che comunque sono arrivate persino a livelli politici importanti, poi si drogano. Ma questo non è, secondo te, la vera causa, il vuoto spirituale della società moderna. C'è questo vuoto che in qualche modo l'uomo moderno che rigetta la spiritualità, però di qualche cosa si deve riempire per colmare questo vuoto. io ti posso dare una risposta scientifica, spirituale, molto importante, spero che questo si possa anche scrivere. Il problema, sono due problemi oggi che abbiamo, uno, l'ateismo, ma non l'ateismo nel senso religioso. Sì. Perché io conosco atei che amano la vita come Dio. Il nostro grande amico è stato Giulietto Chiesa. Sì, uno che ama la vita sta amando Dio, quindi non c'è differenza, solo che non contempla la fede, ma quello è un altro argomento. Sì. Chi non contempla la fede non può essere giudicato negativo o demoniaco che va all'inferno. La fede è un dono. Quindi chi ama la vita sta per noi, per il messaggio che ho ricevuto io, ama Dio. Chi ama Dio con fede, buon per lui. Ecco, queste persone non amano la vita perché si autodistruggono in quanto vogliono godere del momento che la vita sta dando loro e del momento nel quale tu sei virile, forte, donna uomo, che hai la mente lucida e vuoi goderti di tutto il materialismo più sfrenato. Perché? Perché poi dopo finisci nel campo santo e finisce tutto. Quindi perché io devo fare una vita di sacrifici quando poi vado sotto terra e non so, non posso più dire io sono. Me la godo tutta. la domanda è ma anche il laico pensa che sotto terra e finisce tutto ma il laico ha un'intelligenza più avanzata della nostra e quindi un ideale straordinario ammirabile anche più di noi che abbiamo fede perché ha l'istinto della preservazione della vita e ce l'ha nel suo intelletto che ha sviluppato noi diciamo nel suo spirito. quindi il laico che difende la vita contro la guerra si sacrifica muore anche per la sua causa senza che si è goduto tutti i comfort. C'è Guevara ma anche i nostri cari Giulietto Chiesa e poi i martiri Falcone Borsellino era credente ma altri Peppino Impastato e altri martiri abbiamo anche martiri cattolici padre Pino Puglisi che lui è morto col sorriso quando Spatuzza gli ha sparato gli ha sorriso e ha fatto convertire Spatuzza che dice ma come fa una sorridire che gli sto sparando perché quello contemplava la fede e quindi il laico e l'uomo di fede si ritrovano nello stesso cammino perché entrambi uno da un punto di vista l'altro da un altro punto di vista o di ragionamento contemplano l'istinto della preservazione della vita e nello stesso tempo dell'evoluzione della vita. Ora questa gentaglia purtroppo ce l'abbiamo al potere in tutti i campi i vertici della chiesa tranne il Papa che io stimo magari molti fratelli non sono d'accordo ma io lo stimo il Papa perché so di quello che dico non posso dirvi tutto ma so quello che sta facendo ma i vertici del Vaticano non credono ma nemmeno in Cristo e si vogliono godere la vita nel modo più sfrenato i vertici della politica materialmente parlando i vertici della politica che devono fare il servizio al popolo in realtà usano quel potere per godersi la vita loro e al massimo per farla godere ai propri figli ma la maggior parte non pensa ai figli cioè questa gentaglia sono nemmeno criminali perché ricevo una querela finché non si viene dimostrato il reato sono degli indegni della vita perché non pensano al futuro del popolo non pensano a loro stessi e non pensano nemmeno ai figli noi abbiamo la fede ed è già un dono ma abbiamo anche la certezza che esiste l'universo infinito e abitanti di altri mondi che ha raggiunto quella nel campo della medicina della tecnologia un'evoluzione tale che l'uomo può campare a mille anni quindi se noi sappiamo questo perché l'abbiamo visto però l'abbiamo visto solo noi siamo dei pazzi ma quando sarà dimostrato questo l'uomo non ha più ragione né di drogarsi né di fare le guerre perché la sua meta sarà diversa nemmeno fare soldi perché non c'è bisogno di fare soldi quando tu hai la tecnologia gratis e tutti i comfort gratis e tutti i piaceri della carne e dello spirito gratis che bisogna di fare però per tutti perché se no la favela di Giovanni che ho visto che mi ha scioccato dove è andato mio figlio cioè in mondi evoluti non esistono quelle cose ma dobbiamo porre in essere la soluzione finale disse Hitler che era un demonio un assassino era il diavolo il padre però non è il diavolo e porrà in essere la soluzione finale separare il male dal bene quindi non tutti potranno ereditare questa civiltà superiore questo in tutte le profezie Giorgio dell'antico e nuovo testamento tutte le profezie noi siamo un virus siamo un virus cancerogeno è un puntino una cellula insignificante nell'universo ma come tu sai se una cellula delle 600 700 miliardi di cellule si ammala di cancro uccide tutto l'organismo non è meglio che viene uccisa quella cellula che tutto l'organismo certo per salvare più che uccidere la cellula estirpare l'enzima negativo la cellula è bellissima la madre terra è bellissima certo una domanda Giorgio adesso noi abbiamo visto tornando al discorso del tuo viaggio la la parte pubblica del tuo incontro con questi giornalisti nel privato questo loro interesse era vero? cosa hai hai sentito calore umano? assolutamente era vero il giornalista tra i più conosciuti forse il più conosciuto dell'Uruguay Gian Giorgio Almendras amico tuo e mio è anche parte del nostro movimento cronaca giudiziaria per vent'anni un eroe nazionale criminali efferati si sono invece di consegnarsi alla polizia si sono consegnate a lui perché temevano che la polizia sparasse ha salvato dei ragazzi delinquenti e li ha portati dal giudice ecco il giornalista vedi? quando il giornalista è serio onesto e fa il proprio lavoro anche accusando i criminali i criminali se vogliono una soluzione pacifica lo vanno a cercare non vanno dal corrotto il giornalista certo anche se prima era un loro nemico e quindi nel privato molti mi seguono e quelli che non ci credono non insultano rispettano lo vedono come una specie di teatro di arte buongiovanni è così quella sua arte non mi interessa non mi piace però è un artista e va rispettato ecco questo mi fa piacere tantissimo io incontro nelle televisioni del Sud America artisti cantanti che magari non gliene frega niente né degli UFO né delle stimmate oppure ci ridono sopra però l'impegno sociale loro mi appoggiano totalmente sempre e i potenti il Presidente della Repubblica che conosceva Almendras quello che è scomparso lo odiava Almendras perché è ficcanaso perché è un giornalista non lo rispettavano quindi te l'ho detto noi andate in Sud America vedrete tanta miseria povertà ma vedrete tanto amicizia fratellanza spiritualità che qui si conta col contagoccio tu nelle televisioni sudamericane incontrasti Diego Armando Maradona ho incontrato il giocatore più grande della storia del carcere mondiale ci vuoi raccontare questo episodio che forse molte persone non conoscono guarda Diego Armando Maradona è tra quelle persone che si drogavano cocaina sbagliati amicizie stupide un contorno di vipere però diceva in faccia la verità oltre a essere il più grande giocatore della storia del calcio insieme a Pelé e ora c'è un altro che è Messi che lo sta raggiungendo anzi l'ha raggiunto perché ha vinto il mondiale gli mancava solo quello ecco differenza Diego Armando Maradona era una persona contro il potere era amico di Gianni Minà che è scomparso il grande giornalista che vedi il giornalista ti racconto prima dell'episodio di Diego ti racconto un episodio con Gianni Minà sono andato a casa sua insieme a Lorenzo Baldo perché volevamo intervistarlo per antimafia e lui ci ha accolto a braccia aperte cioè è un'emozione Gianni Minà amico di Muhammad Ali di Robert De Niro cioè tu stai lì con la bocca aperta e quando è entrato quando siamo entrati lui sapeva io avevo l'estima cioè non è che si è scandalizzato quando è entrata una sua collaboratrice che lui ospitava ex brigatista poi gli hanno dato la grazia eccetera ha detto l'ha presentato ha detto Silvia guarda ce la vedi questa persona questo è il nostro Gianni Minà ecco vedi i laici lui non interessava non è l'estima te ne forse contempla non lo so so che era laico però che cosa vedeva vedeva l'ideale comune l'istinto della preservazione della vita cioè l'evoluzione della vita ecco Diego Gianni Minà ha avuto una vita sobria Diego purtroppo è andato nell'inferno della della cocaina e amici a Napoli mafiosi ma era un bravo ragazzo una bravissima persona e anche generosa attorniato da vipere da criminali assassini ecco lui si drogava ma ha lasciato un messaggio gigantesco nello sport mondiale e ha difeso l'episodio nella televisione eravamo al canal de las estrellas la tv americana canal america di buenos aires comunque eri in argentina c'è in argentina canal america è uno dei canali più importanti di buenos aires di tutta l'argentina io ero ospite di uno show dove devo presentare il messaggio arriva Diego e c'erano persone che mi burlavano mi insultavano facevo parte dello show il contraddittorio erano degli attori pagati apposta quindi non era una persona che non ci credeva doveva fare perché doveva suscitare l'audience io mi difendevo e poi è entrato Diego quindi la star ha preso posizione l'intervistatore inizia a parlare con Diego io già ero un po' più messo da parte avevo già dato il messaggio ero lì se volevo interloquire con Diego Maradona la prima cosa che ha detto Diego buonasera io devo dire una cosa io a questo maestro lo devo difendere perché io ci credo a quello che dice lui toglierà il lavoro a tutti i preti perché il Vaticano è corrotto mi ha visto la prima volta forse aveva sentito parlare e mi ha detto maestro non ti preoccupare io sono con te quando è morto mi ha rattristato tanto è stato l'unico incontro forse lo potevo incontrare altre volte però io lui andava a Cuba sosteneva aiutava tanti poveri gli hanno rubato un patrimonio Pier assassini criminali come la storia di Boris Becker uno dei più grandi tennisti forse il più grande tennista della storia del tennissi mondiale ha tornato da vipere lo hanno distrutto è andato persino in galera ecco questi sono persone che lasciano un messaggio possono sbagliare ma certamente però hanno lasciato chi nella storia dello sport mondiale chi si di me non sa chi è Maradona o nello sport specifico del tennis chi è che non sa chi è Boris Becker eppure poveretto sull'astrico in galera ecco come siamo noi noi siamo avidi dove c'è dove c'è lo star poi dopo la persona quella è una persona va in disgrazia però non ci possiamo dimenticare delle cose che hanno fatto Mozart è morto con la sifilide in una fossa nessuno sa che è morto così abbandonato ma tutti sappiamo e per i prossimi 5.000 anni ascolteremo la musica di Mozart certo torniamo al tuo viaggio Giorgio alla Paloma la spiaggia di Atlantide sì quanto è importante ancora l'energia di questo luogo che riguarda questa civiltà grandiosa che poi è collassata ma perché lì è il punto del cuore della terra c'è questa base che poi sta sotto lì c'è anche si collega col triangolo delle Bermuda il muro di Bimini queste piramidi grandissime alte migliaia di metri e lì la culla dell'archeologia spaziale ufologica è lì la culla cioè l'archeologia ufologica tu mi insegni senza Atlantide non è archeologia certo è il posto più sognato di tutti la leggenda di tutti Platone ne parlò in modo leggendearo leggendario e quindi l'energia che viene che emana questo luogo è un'energia solare cioè la vera presenza extraterrestre nel senso spirituale è proprio il Polo Sud tutto il Polo Sud fino a tutto l'Oceano Atlantico e quindi lì ci sono loro a tutti gli effetti ecco come ti puoi spiegare perché questi popoli sono sì avranno i loro problemi certamente narcotraffico corruzione però perché spiritualmente la massa e anche a volte il potere con tutta la sua corruzione è più sensibile di noi perché riceve questi influssi noi invece vicino al Polo Nord riceviamo l'influsso dell'inferno che è il luogo dove è andato Dante quando ha visto i gironi certo chi era Dante e Giorgio l'apostolo Pietro che è tornato nel Medioevo e poi è stato anche il conte di Saint Germain è stato l'apostolo Pietro e altri personaggi adesso gira beato lui lui si sposta mica si sposta col treno come a me lui si sposta con altri modi racconti quell'episodio dove Eugenio ti portò vuoi raccontarlo certo che Eugenio ci raccontò e un giorno ho avuto questa fortuna non l'ho raccontata mai questa storia forse in pubblico è la prima volta che dovevo incontrare durante e questo è il nome che usa oggi sì Abzo Ismail Zwandi è un vecchio di sempre ottantenne ma corre come corre il nostro campione olimpico e scendeva dall'Etna vicino Nicolosi tutto arzillo col bastone ed Eugenio che si portò con sé sì 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 per la seconda l'avevo incontrato già due volte precedenti e per la volta dice vieni con me poi si sono appartati e hanno parlato da soli ma io ero come da qui dove c'è Roberto però alcune scene lo assisti e detto durante caro sai Eugenio che si emozionava lui era un po' burbero però affettuoso ma con quale treno sei arrivato sono felice lo guarda ma quale treno Eugenio perché durante usa il disco volante certamente cioè Eugenio ma quale treno quale treno quindi questo gli aveva raccontato come era stato tradito nel complotto dagli americani due fratelli americani che vivevano che vivevano nella villa con lui il complotto per uccidere Eugenio per eliminarlo in carcere diciamo perché gli UFO negli anni 70 non è come adesso a te ti avrebbero arrestato se tu avessi fatto la propaganda che fai oggi con successo con scienza con esperienze negli anni 70 ti avrebbero fatto arrestare diciamo tuoi collaboratori infiltravano qualcuno dei tuoi collaboratori noi siamo brave persone non te ne saresti accorto e ti avrebbe buttato la polpetta avvelenata poi magari dopo dieci anni scoprivi che era un agente dei servizi oggi grazie ad Eugenio ai sacrifici di Eugenio e altri pionieri ad Amski possiamo parlare liberamente però all'epoca era lo insegni tu c'era anche la legge in America che addirittura ti multavano e ti arrestavano dai militari e quindi questo disse ad Eugenio durante da parte degli extraterrestri cioè rivelargli e per questo l'avevano aiutato dentro il carcere è sceso l'astronave nel carcere guarda ci sono esperienze bisogna andarle a rivedere magari ti suggerisco di raccontarle Boris Giuliano il martire della mafia ha filmato insieme alla sua volante della polizia un astronave in cielo nel 78 e l'hanno pubblicato la polizia di Palermo il commissario Boris Giuliano filmano un UFO in cielo guarda caso ci abbiamo tutti i giornali Eugenio lo hanno liberato secondo me dal carcere istintivamente perché gli extraterrestri avrebbero colpito Catania senza dubbio si poi le manifestazioni sono state eccezionali devono stare attenti adesso che io mi onoro di seguire la stessa direttiva celeste di Eugenio devono stare attenti a perseguitarmi perché magari mi 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 buttano la polpetta avvelenata però se lo fanno gli extraterrestri colpiscono duramente il motivo profondo per cui perseguitare Eugenio è questo? il motivo profondo era gli UFO e poi perché stava tirando fuori dalla droga tanti ragazzi e perché avevano paura che gli extraterrestri tramite lui potessero scendere e creare una minaccia c'era la guerra fredda no? certo e invaderci in realtà sbagliavano clamorosamente Eugenio stava dando un messaggio pacifico più pacifico di quello certo comunque Eugenio fu visitato dai servizi dei due blocchi Russia e America Lione Sovietica volevano sapere formule non sapevano come fare funzionare l'UFO del Nevada dell'Area 51 non si chiamava Area 51 non gliel'hanno detto però gliel'hanno detto noi ci faccia dire da questi esseri diciamo come non accenderlo farlo volare ed Eugenio sia agli americani sia a quelli del KGB che sono andati a casa a trovarlo poi senza noi siamo dei servizi ci deve dire questo cioè non è che gli hanno detto siamo pompieri ed Eugenio gli disse guardate io non vi posso dire niente se avete la capacità di aprire il mio cervello e leggermi nella mente leggete pure e se ne sarà andata Eugenio Eugenio non ha mai consegnato nessun documento tranne la foto di Adoniesis che più per allora era per oggi perché quello è il documento più importante della storia diciamo del mondo forse del contattismo perché Adoniesis è la continuazione dell'opera di Cristo ed Eugenio l'ha fotografato e lui lo doveva fotografare ma è per noi quella foto non era per gli anni 70 e per oggi perché quegli occhi sono in mezzo a noi lo sai Certo assolutamente quindi l'energia che irradia questa questa città sotterranea per modo di dire è sotterranea vabbè cioè di fatto è affacciata verso un sole verso un cielo che sono dentro dentro il pianeta però per noi è sotterranea certo quindi questa energia riesce a uscire fino a superficie e condizionare condizionare gli iniziati perché non è che in Sud America però anche il popolo è più sensibile assolutamente assolutamente il popolo guarda non c'è uno statistica 100% che non crede agli UFO anche perché li vedono cioè i giornali avvistato dai bagnanti di La Paloma diecimila persone dichiarano uno di aver visto delle grandi luci avvistato a punta dell'este un astrona cioè avvistato da chi? da Pier da Giorgio avvistato da 500 200 300 100 è lo stesso in Messico lo stesso qui avvistamenti proprio devi avere il coraggio di dirlo certo là è come se racconti che sei andato al cinema sai ho visto un UFO stasera comunque devo dire che anche qui un po' la situazione è cambiata onestamente sì ma perché loro si fanno vedere di più certo cioè quindi tutto il lavoro che ha fatto Eugenio e altri ah Eugenio è stato senza di lui non ci saremmo nemmeno noi certo assolutamente vero questa città Giorgio tu l'hai visitata il Dorado il 5 maggio del 1990 mi hanno preso da casa mia e mi hanno portato dentro e l'unica cosa che mi ricordo è questo vortice di luce questo tunnel sai quando muori io non ero morto e poi mi ritrovo in questa luce così ma proprio intensa solare in una piattaforma trasparente quasi ma era terra appoggiavo a terra vedevo gente che camminava vedevo dei velivoli posteggiati chiamiamoli così gli schicolanti sì e poi ho visto mi hanno fatto vedere una grande piattaforma c'è un tabellone da cinema grande come un monitor diciamo un monitor piatto come gli schermi piatti di oggi che prima era favolo no? sì solo nei film di fantascienza schermo piatto di oggi grande come un campo di calcio era almeno cento metri infatti mi ha impressionato lo voglio a casa per vedere i film io ero piccolo così e si vedeva questo e c'erano tutti i punti che luccicavano erano tutte le basi atomiche del mondo che loro controllano tutte erano un'infinità per non mi chiedere erano sparsi in tutto il mondo e ce n'era una e alcune erano rosso perché erano c'era vedi 5 maggio del 90 come facevo a saperlo Gorbaciov gli hanno fatto l'attentato il colpo di stato nell'agosto sì ecco mi hanno detto abbiamo hanno messo un pacemaker nel cuore di Gorbaciov perché se lo uccidono o gli fanno del male partono i messili nucleari e gli avevano messo i complottisti cioè quelli che lo volevano defenestrare gli hanno messo questo perché se va male il colpo di stato facciamo azionare e invece non è successo niente perché sono intervenuti sì assolutamente gli esseri e poi mi hanno parlato di quello che dovevo fare e mi hanno detto chi c'era lì tra questi Ettore Maiorana ma anche altri personaggi scomparsi scomparsi tra virgolette sì che non hanno mai trovato e che sono lì ti accompagnarono due esseri uno si chiama Astar e un altro Itacar uno aveva i capelli biondi come queste alcune belle signore che vedo qui ma proprio biondo sole e l'altro i capelli bruni Itacar sì Itacar che ha incontrato anche mio fratello Filippo perché ha una caratteristica questo maglione che porta ha sempre la V tipo così la V quindi te lo ricordi questo bellissimo maglione tutto luccicante cose da pazzi insomma Giorgio Astar è l'Arcangelo Michele Itacar è il Raffaele per caso? no non è il Raffaele perché gli arcangeli sono tutti uguali Itacar è un luogotenente un angelo come se tu in Scena sì un angelo comandante tutti i comandanti sono però è un angelo c'era anche Gesù quando sei stato prelevato erano in tre sì ma se dico che Gesù mi arrestano Gesù è lì nel paradiso sull'altare invece no invece Gesù è il figlio di Dio per questo perché è anche uomo quando vuole io mi ricordo Giorgio una tua apparizione che è venuta se non comanda lui gli angeli chi li deve comandare certo se io volessi chiedo al padre mio mi dà più di 12 legioni cavolo tu hai avuto un'apparizione nelle marche Giorgio dove Gesù ti è apparso con una una tuta spaziale sembrava ma non è perché lui è un ex per rendermi agevole il contatto perché appare Gesù con la tonaca per rendere agevole il contatto o con la tunica lui si adatta alla formazione che c'è la persona e comunque Gesù però io l'ho visto anche con la tunica però Gesù è anche parte di quella realtà cosmica ma ci vencherebbe come parte Gesù è anche parte della realtà umana Gesù è parte cosmica è anche parte della nostra miserabilitudine dice Gaspare umana e quindi si adatta facendosi vedere con un corpo anche da noi il suo corpo è suscitato certo sei stato altre volte nell'Eldorado? sì ma non l'ho mai detto e vorrei ritornarci e stare lì per sempre e salutarvi ma va bene noi partiamo ciao ti hanno mai spiegato Giorgio grazie ho visto anche alcuni di voi sì lì e anche in qualche viaggio che mi hanno fatto fare alcuni di voi lì che però voi non vi ricordate non mi chiedere i nomi i cognomi non ti dico il nome un essere che io amo tanto una nostra sorella umile della Sicilia che gli voglio bene è sempre silenziosa accompagna un nostro rappresentante l'ho vista che giocava con dei bambini mentre avevo mi aveva portato set un scenare in questo contatto io sono passato ho detto ma e lei non mi ha detto niente mi ha guardato e mi ha sorriso come se sapesse tutto però se tu gli dici no ma io non mi ricordo niente è meglio che non te lo ricordi ti hanno mai spiegato Giorgio perché giusto ieri parlavo del triangolo delle Bermuda che è una delle porte principali è scritto in un messaggio di Eugenio dopo quelle dei poli è uno dei portali dove i fratelli passano per andare nell'Eldorado le persone che scompaiono lì finiscono nell'Eldorado si pure i mezzi pure i mezzi che poi loro li rendono materia inerte i mezzi se sono navi le persone gli fanno vedere non è tornato manco uno eh li capisco infatti pensavo di pigliare un motoscafo andare lì si sa mai non è tornato nemmeno uno ma attenzione sono tutte persone che avevano un progetto dall'alto non è un caso no assolutamente non è un caso sono scomparsi intere navi sì sì e interi aerei però non era un caso quelle persone sono lì credo se non ricordo male mi disse Eugenio tra i mille e i 1200 persone sono lì terrestri sì infatti Spielberg nel film li fa uscire dall'astronave certo e non è invecchiato nessuno nessuno sono rimasti giovani come i decenni prima di quando scomparvero quindi quello è stato un messaggio occulto del potere certo perché loro sanno il l'MJ8 no MJ12 sanno tutte queste cose il progetto segreto degli Stati Uniti d'America e anche i russi sanno questi fatti sono palesi lo dice persino Enzo Maiorca sì certo che loro hanno dei dossier segreti sanno tutto ma poi pubblicamente ridicolizzano questa verità è una verità vedi Pierre perché noi siamo felici contenti anche se ripeto siamo in una società un mondo in guerra grave e abbiamo noi i nostri difetti problemi però noi siamo felici perché sappiamo che che prima o poi l'umanità entrerà in questo mondo universale lo viviamo con grande attesa e chi poi non ci crede oppure si auto lesiona o vuole lesionare gli altri perché non ha gioia nel cuore non ha libertà di spirito non è evoluto certo la nostra droga è l'opera sì quella che ci apre il chakra quella che ci apre il chakra è l'opera Cristo sì cosa hai provato Giorgio ritornando quest'anno in questo luogo dove hai visto il Signore venire dalle acque dove c'è stato quel fenomeno una profonda emozione ci fu il fenomeno solare meraviglioso profonda emozione e ripeto nostalgia di ritornare anche con quei ragazzi stupendi credo che è stato un aiuto che Dio mi ha dato a parte l'aiuto che io posso dare agli altri ho provato questo ho provato anche molta diciamo commiserazione verso chi non vive questi queste gioie questa verità e vive invece in un mondo senza fine positiva senza luce senza luce completamente Gesù uomo del giorno Giorgio lui è l'unica speranza dell'umanità questa è la mia riflessione ultima senza di lui non c'è futuro no senza di lui non c'è vita verità è via dice lui assolutamente ma Gesù Cristo è il punto centrale della nostra opera e Gesù Cristo dal nostro punto di vista dal mio in particolare è fondamentale ancora più di Dio Dio è un titolo Dio è un'entità sublime infinita però irraggiungibile che non vedi non tocchi forse senti come lo sento io io lo sento questo Dio però Cristo ti parla sì questo Cristo è tangibile palpabile certo io sono un'eccezione perché l'ho visto ma anche se non l'avessi visto io l'avrei sentito che lui è una realtà umana e questa è la cosa più grande questo Dio che si fa uomo e che ci viene scende sul nostro piano e ci dà certezza la certezza di un mondo migliore la certezza di una giustizia vera la certezza che non ci sono sconti per nessuno la certezza che c'è un perdono se ti penti e cambi vita la certezza che non c'è il razzismo siamo tutti fratelli che è la certezza dei diritti umani dei diritti alla vita la certezza del diritto di essere libero anche di sbagliare ma poi dopo pentirti e cambiare certo la certezza di che lui è il vero governatore è uno che ha dei ministri ma non sono corrotti e c'è una milizia celeste che ubbidisce e che aiuta i più deboli gli extraterrestri viaggiano nell'universo e sono al servizio di Cristo e sono una milizia militare con armi che possono distruggere l'universo per proteggere i più deboli la pace e l'amore sì loro non si alleano mai con i poteri quando parliamo della terza e quarta dimensione umana loro per antonomasia sono contro i poteri che cercano nei mondi dove ci sono società tridimensionali la parte più debole per difenderla anche con le armi se necessario non si alleano e questo è Cristo quando è sceso sulla terra lui era alleato dei più deboli nemico dei potenti eppure poteva con uno schiocco di dita annientare tutti questo è Cristo per noi e che ritornerà anzi è già tornato è qui sulla terra con cinque dei suoi apostoli fisicamente lui entra e esce dall'eldorado certo entra e esce dall'eldorado dall'universo dal sole ho detto questo in una intervista si è scatenato si è scatenato un putiferio si eri un eretico si un pazzo un fuori di testa certo vabbè glielo dirà Gesù stesso di persona chi è da dove viene e che cosa vuole bene Giorgio chiudiamo con nostro Signore che è l'essere più sublime e che merita tutto il nostro amore e tutta la nostra dedizione assolutamente siamo qui per questo e per preparare la sua venuta questo lui ci ha chiesto di fare e questo faremo con tutto il cuore e tutta la gioia grazie saluto gli amici collegati grazie Giorgio è stata un'intervista secondo me un po' particolare abbiamo spaziato diversa però mi è piaciuta veramente tanto grazie con tutto il cuore grazie alla prossima su questi schermi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.